Che volete le mie? Si finanza l'ultima vigna scherpa? Noi l'ambasciata diciamo, è buono lo volestiamo, ma state tranquilli che vi pentite, perché c'è posto per altri, no no? Dicevo che due galli nello stesso collaio non possono stare. Don Giovanni ti ricompenserà con 50 milioni di milioni. La garemo su questa vicenda. Giove tu sento i cuori, chi mi abbatti, sono tenti i miei pensieri, liberi e salutai, queste notti di paura pura. Sai padre, quando sento queste cose che accadono a casa nostra, cose volgari e soprattutto nel nostro paese, mi viene voglia di andare a casa di quel beduino e farlo fuori senza nessuna pietà.